Nell'epoca della grande distribuzione degli acquisti online, il Codacons Vallo di Diano celebra i mercati rionali. In particolare, sottolinea l'importanza che rivestono quelli dedicati ai prodotti agricoli locali. I mercatini, fin dai tempi più antichi, rappresentano un luogo di scambio che ha permesso l'evoluzione della civiltà, sottolinea il responsabile agricoltura Salvatore Gasparro. Offrono non solo un'ampia vetrina di prodotti tradizionali, di stagione, freschi, difficilmente reperibili negli ipermercati, ma il percorso tra i banchi dei produttori è soprattutto contatto umano. La differenza tra gli acquisti della grande distribuzione e gli acquisti nei mercati rionali, ma anche nel piccolo negozio sotto casa, sta nella possibilità di cercare e trovare quei prodotti particolari che ci riportano la nostra infanzia o che in cucina assicurano il dettaglio che fa grande un pranzo o una cena. Sono il luogo dove le produzioni locali vengono valorizzate, molti prodotti tradizionali riscoperti. La nostra storia può essere riletta e magari tramandata ai nostri figli. I mercati rionali sono sempre stati parte integrante delle economie locali. Nei territori tra Cilento e Vallodidiano, in ogni comune, sono presenti a cadenza settimanale. Purtroppo vengono frequentati sempre meno. Eppure portano grandi benefici anche a livello culturale e sociale. Animano i quartieri, profumano di comunità. Intorno ad essi ruotano posti di lavoro e attività produttive da tenere in vita. Da qui l'invito di Gasparro a ravvivare la frequentazione di questi meravigliosi posti. Senza soffermarmi sulle qualità organolettiche dei prodotti, conclude, c'è un elenco lungo di quelli che è possibile reperire e riscoprire nel viaggio tra sapori, colori e profumi del Cilento e del Vallodidiano. Dalle cime di rapa, ai cavoli e broccoli, alla minestra spersa, alle cipolle salesi, peperoni tegianesi, zucche, bietole, cacio ricotta cilentano. Sono solo alcune delle nostre ricchezze e basta recarsi nei nostri mercatini per trovarle insieme a tanti preziosi consigli dei produttori.